E ovviamente benvenuto e ben ritrovato al nostro medico veterinario Federico Coccia che ormai è di casa, qui a Tutto Chiaro. Allora Alessandra, raccontaci un po' di queste galline, che peculiarità hanno, che caratteristiche hanno? Allora, sono galline ornamentali, quindi galline a tutti gli effetti da compagnia. Si tengono a casa, è una moda che sta sviluppandosi in questi ultimi tempi, perché sono decorative, sono molto belle dal punto di vista proprio del piumaggio, anche delle dimensioni, perché alcune ad esempio ne vedete delle nane sulla destra, queste galline più riposte nell'angolo, e alcune razze sono addirittura giganti, questa ad esempio è Clarissa. Sembra quasi un gallo di una gallina. Sì, però è proprio la sua caratteristica, sono così belle slanciate e diciamo che arrivano all'altezza di 70 cm, quindi alte quasi quanto questo recinto. È giovane, ha tre mesi ed è già bella, insomma, possente. La caratteristica di queste galline pelose invece, che a tutti gli effetti assomigliano dei cani o dei gatti, è di avere questa piuma serica che si sfibra e che diventa quasi come un pelo, hanno cinque dita e hanno la pelle completamente nera, quindi sono molto particolari. Ecco, e dovete considerare, cari spettatori, che queste galline hanno partecipato a dei concorsi di bellezza e hanno addirittura vinto dei premi, è così? Assolutamente, qua abbiamo ad esempio Marta, che è una campionessa regionale del 2016 del Lazio. Marta, chi è lei? Lei, questa gallinella nera, molto, insomma, becchia. No, becca perché... No, volevo provare a prenderla in bacio. No, no, sono molto buone adesso. No, perché sono un po' disturbate dalle luci, dallo studio. Forse sì, in studio. Ma come loro vanno d'accordo? Assolutamente, come le vedete qui, ecco, sono tutte o sorelle o comunque cresciute insieme. Lei è una taglia nana, quindi ha vinto i campionati regionali per la taglia nana, invece lei è una morosetta grande, vedete un pochino la differenza di altezza, e anche lei ha già vinto qualche titolo. Allora, Margaret? Infatti le febbi lucce vanno d'accordo, è quando metti due galli nel polaio che non vanno d'accordo. Esatto, che non vanno d'accordo. Quindi vanno tutte d'accordo loro. Quindi Federico, ma qual è la giusta alimentazione per delle galline di compagnia? Intanto, hai detto bene, galline di compagnia, perché sai adesso siamo diventati tutti vegetariani, quindi insomma vedere la gallina come animale di compagnia è molto, molto meglio, nel senso che costano poco. Da mangiare, noi ci pensiamo, essendo onnivore, no? Possiamo dar loro tutti i rifiuti organici della casa. Quindi un polaio costa poco, non è rumoroso, non è costoso, e quindi dar loro tutti i rifiuti organici, e smaltiamo i rifiuti organici, e poi loro riproducono le uova. Esatto, ma questa è la cosa straordinaria. Capisci che vantaggio, che avere le galline in casa? Ma una gallina in casa e anche le uova fresche? Assolutamente sì. Ma ogni quanto depositano le uova? Allora, sono sempre una razza ornamentale, quindi depongono un pochino meno uova delle razze normali, ovaiole, però arriviamo su un buon 120-150 uova all'anno, le loro uova sono molto più piccole delle uova normali, e poi a seconda di ciò che mangiano sono gialle o bianche, e l'alimentazione di cui parlavamo prima è fondamentale. Le granaglie dobbiamo dargliele sempre, però come dicevo prima, essendo onnivore, noi tutto ciò che produciamo glielo possiamo dare. Poi, meglio si alimentano e più l'uovo è buono. Le proprietà dell'uovo, ragazzi, io per esempio che sono uno sportivo, ho assolutamente bisogno di queste sostanze, Quindi colazione con l'uovo. Di queste proteine, perché sono facilmente digeribili e aiutano, sono le proteine più sane forse che esistono al mondo. Ma le galline, dottore, depositano più uova, d'estate o d'inverno? Guarda, chiaramente d'estate perché sono più serene e più tranquille, il clima non aiuta. Poi è chiaro che dando loro da mangiare meglio, come dicevo prima, fanno più uova. Poi devono stare in un ambiente sereno perché l'uovo viene, e lei mi darà ragione, la gallina non deve essere stressata per fare l'uovo. Quindi deve stare in un ambiente calmo, tranquillo. Tutti noi non dovremmo essere stressati per fare bene le cose. Esatto, esatto. La stessa cosa è per noi. Per fare bene un uovo e per produrre un uovo sano, la gallina deve essere tranquilla, in un ambiente tranquillo. Quindi adesso io dico a tutti coloro che vogliono fare un pollaio, costi quasi zero, non ci sono costi, anzi addirittura il mangiare viene smaltito. Allora, però farlo in un giardino magari, isolato, lontano magari dagli altri animali domestici, che possono essere i cani o i gatti, che possono da loro partidio, per non stressarle. E quindi loro sicuramente produrranno delle buone uova, tante e buone, quindi quantità e qualità. Sicuramente a chilometro zero. Allora, in America, in gran parte dell'Europa, avere del gallina e la compagnia ormai è una cosa comune e normale, ma sta diventando quindi uno status anche d'Italia. Vanno in giro col guinzaglio. A Milano una mia... Ah, io ho una cliente che ha una gallina, che la porta in giro col guinzaglio a Milano, chiaramente non nel parco dei cani, ma l'ho vista che camminava a via Monte Napoleone con la gallina al guinzaglio. No, vabbè, era il nuovo modo avere la gallina da compagnia. Ma vogliamo scassare il mito che le galline non sono intelligenti? Sono intelligentissime. Eh, dai, diciamolo. E poi un'altra cosa, sono intelligentissime e poi nessuno sa quanto campa una gallina. Quanto campa? Eh, pensate che una gallina, un animale... No, no, non sono centenari. Però vanno dai 5 ai 10 anni, quindi sono 10 anni di compagnia lieta, devo dire. Sì, lieta. Anche perché devono essere serene loro, ma quindi dobbiamo essere sereni noi. Assolutamente. E allora, io ringrazio ovviamente il nostro Federico Coccia, Alessandra Cobi, Lerchù.